Bentornati o benvenuti nel mio canale se siete nuovi, io sono Elisa e anche oggi sono qui per scoprire insieme a voi il meraviglioso mondo del beauty. Nel video di oggi proveremo insieme i prodotti del brand Rare Beauty. Se non sapete nulla di questo brand sappiate che si tratta di un brand creato da Selena Gomez, brand che è recentissimamente sbarcato da Sephora, i prodotti sono almeno parzialmente disponibili ma piano piano la gamma si sta ampliando. Prodotti che io ho acquistato già da qualche mese ma che non ci crederete mai ragazze, in parte non ho ancora mai provato. Ero curiosa di provare questo brand quando ho saputo che era disponibile da Sephora e come sapete raramente riesco a resistere alle mie curiosità e ai miei impulsi d'acquisto e quindi mesi fa ho fatto appunto il mio acquistino da Sephora e ho preso quattro prodotti che ora vi mostro. Questi sono i quattro prodotti che ho acquistato e sono in particolare il fondotinta, il correttore e due blush in due versioni diverse, un blush liquido e l'altro invece in crema. Fondotinta e correttore ho voluto assolutamente provarli perché di ogni brand questi sono i due prodotti che mi incuriosiscono sempre di più. Sapete che ho una fissa assurda per i correttori ma anche i fondotinta appunto sono tra i miei prodotti preferiti, poi ultimamente sono particolarmente in fissa con i prodotti per la base. Per quanto riguarda invece i blush mi sono un po' informata sul brand e da quello che ho trovato online ho scoperto appunto che i blush sono tra i prodotti migliori di questo brand. Quando ho fatto questi miei acquisti in omaggio con almeno due prodotti vi davano questa mini size di questo prodotto che è un primer che va applicato prima del fondotinta, quindi un primer viso e lui si chiama illuminating primer, quindi è un primer illuminante. Ma di questi prodotti che cosa ho provato finora e che cosa invece non ho ancora toccato? Allora ho provato il fondotinta e il correttore che però ho dovuto lasciare da parte praticamente subito per via delle colorazioni. Ho acquistato questi prodotti praticamente ad inizio estate e di lì a poco ho iniziato ad andare al mare, quindi mi sono abbronzata e queste colorazioni che vi dirò erano già chiarine di partenza sono diventate praticamente inutilizzabili. In questo momento ho perso gran parte della mia abbronzatura e lo vedrete tra poco quando andrò a struccare la mia base, quindi credo di poter riuscire ad utilizzare di nuovo questi due prodotti. Ed è per questo che ho anche aspettato un pochino a parlarvene perché appunto volevo mostrarvi l'applicazione ma con il viso super abbronzato non mi sembrava proprio il caso. Spero che l'applicazione di oggi sarà decente dal punto di vista della colorazione anche se so già che il correttore l'ho proprio cannato perché è davvero troppo chiaro. L'ho preso in realtà della stessa tonalità del fondotinta che è la 130N quindi con sottotono neutro, anche lui è il 130N ma trovo che il correttore rispetto al fondotinta e forse lo potete vedere anche dal pack è un pochino più chiaro. Quindi vedremo un po' come sarà il risultato finale sul viso dopo qualche mese che non utilizzo più questi prodotti. Invece non ho ancora mai provato i blush, quindi per quanto riguarda i blush che proveremo insieme entrambi, quindi andrò ad applicare su un lato del viso quello liquido e su un lato del viso quello in crema, vedremo com'è la consistenza e quindi sarà una scoperta, li scopriremo insieme. Quindi a questo punto direi di andare a struccare la mia base, io metto le mie solite mollettine per tirare un pochino indietro i capelli in questo modo e poi struccherò appunto solo la base cercando di lasciare intatto il trucco occhi e le sopracciglia anche perché tra poco devo uscire e non vorrei dover rifare tutto il trucco da capo. Quindi procedo con lo struccaggio e torno. Allora eccomi qua con la faccia completamente struccata, credo che sia evidente rispetto a poco fa, soprattutto le mie fantastiche occhiaie. E quindi iniziamo ad applicare i prodotti di Rare Beauty applicando come primo step il primer, visto che lo abbiamo, utilizziamolo. Vado a fare un paio di pump, il prodotto si presenta in questo modo, è una specie di cremina bianca un po' perlescente come vedete. Una volta steso però praticamente risulta invisibile, quindi in colore non invisibile e lascia semplicemente un po' di luminescenza sul viso ma niente di particolarmente eccessivo. Quello che invece mi piace molto di questo prodotto, che era tra quelli che invece ho provato un pochino di più, è che lascia la pelle molto molto morbida e molto idratata. Tra l'altro è anche abbastanza leggero e non dà l'impressione di essere particolarmente siliconico, quindi neanche particolarmente occlusivo per la nostra pelle. Quindi sicuramente un prodotto piacevole da utilizzare. Ok, dopo aver messo il nostro primer, che se avete fatto caso io ho messo anche un pochino nella zona delle occhiaie, direi di andare a stendere un primo strato del correttore. Io solitamente faccio così, ora fate conto che quando mi trucco inizialmente metto sempre un po' di correttore sul contorno occhi, a contorno occhi nudo, quindi prima di iniziare il make up occhi. Ovviamente anche stamattina avevo fatto così, quindi ora seguiamo lo stesso passaggio. In realtà non ne metto molto perché è abbastanza coprente. Credo che possiate già notare che la colorazione è abbastanza chiarina, quindi avrei sicuramente dovuto scegliere una tonalità un pochino più scura. Questo ragazzi è il grosso grosso limite dell'acquisto fatto a distanza online. Purtroppo anche se ci si documenta, si guardano swatch e foto e quant'altro, spesso si incappa in questo tipo di problema o almeno a me succede spesso. Poi ditemi voi, o sono io particolarmente non brava a scegliere, fatemi sapere se capita anche a voi appunto. A me capita molto molto spesso purtroppo, ma non avendo io una Sephora a disposizione nella mia zona, o meglio devo fare circa 50 o 60 chilometri prima di arrivare a un negozio Sephora e oltretutto non è neanche uno di quegli store ultra giganti che ha tutti i brand. Per esempio Natasha Denona non c'è, quindi sono sostanzialmente costretta ad acquistare online. Ecco qua, questo è l'effetto del correttore che avete visto o steso con un pennello. A parte che la colorazione è chiara, ma per il resto devo dire che la coprenza è molto molto buona. Peccato che appunto la colorazione sbagliata faccia sì che la zona delle mie occhiaie risulti in questo momento un po' grigiastra, ma non è appunto colpa del prodotto quanto della colorazione. Per il resto lo trovo un prodotto comunque valido perché è molto sottile, quindi non vi fa pastone nella zona del contorno occhi, si stende molto facilmente ed è anche molto coprente, non un full coverage, però ha una coprenza medio alta. Passiamo ora al fondotinta e tra l'altro mi soffermo un attimino sul packaging, cosa che non ho fatto con il correttore anche se sono sostanzialmente uguali. Packaging che devo dire è tra le cose che mi piace di più di questo brand e sicuramente ha contribuito ad incuriosirmi nel voler provare appunto questi prodotti. Il tappo è molto iconico come vedete e sicuramente rende il brand riconoscibile rispetto alla massa e questa è una cosa che apprezzo. I packaging secondari, quindi le scatoline, sono tutte invece fatte in questo modo, in questo begiolino di base, begiolino rosato, in realtà con le scritte nere e color borgogna. Molto essenziale come pack, ma anche questo molto gradito alla mia persona, mi piace molto appunto come si presentano questi prodotti. Il fondotinta, come vi dicevo, è identico nel pack al correttore. La colorazione, ve lo ripeto, è la 130N, esattamente come quella del correttore. Shakeriamo bene il fondotinta prima di applicarlo perché così ci viene consigliato, e io seguo sempre le istruzioni, quindi shakeriamo, shakeriamo molto bene. Il prodotto sembra abbastanza liquidino. L'applicatore purtroppo è a spugnotta, io lo chiamo così. Non amo molto questa tipologia di applicatore quando si parla di fondotinta, ma ragazze tant'è, e così dobbiamo prenderlo. Vado a fare le mie solite strisce da moicano. Effettivamente è abbastanza liquido come prodotto, e ancora anche abbastanza chiaro. Per stenderlo, vado a prendere il mio solito pennello. Questo è sempre il pennello di Giuliana, Make Up The Light. Lo trovate tra i prodotti di Cosmify. E inizio a stendere. Allora, come vedete la coprenza del prodotto è molto alta, e la colorazione è decisamente ancora troppo chiara per me. Eh sì ragazze, direi che l'effetto Casper è assolutamente assicurato. Dopo averlo steso con il pennello, vado a tamponare un po' con una spugnetta. Questa è sempre di Make Up The Light. Lo faccio per far aderire meglio il prodotto, e anche per andare ad eliminare l'eventuale eccesso, che stendendo il prodotto con il pennello è più semplice che ci sia, nel senso che è più facile esagerare nella quantità quando si stende il prodotto con il pennello piuttosto che con la spugnetta, e in questo modo quindi vado ad eliminare tutti i possibili eccessi. Allora ragazze, questo è l'effetto del fondotinta appena steso, e direi che è ancora abbastanza chiaro per me, però per adesso non facciamo caso alla colorazione, che tra l'altro spero di poter utilizzare almeno in pieno inverno, perché mi sembra davvero molto molto chiara, ok io ho ancora su della bronzatura residua, e devo dire che non sono così colorita di solito, però non lo so, mi sembra davvero molto molto chiaro, e sarebbe un peccato se non riuscissi ad utilizzarlo, perché vi devo dire che questo prodotto mi piace davvero molto. Mi era piaciuto sin dalle prime volte in cui l'avevo provato, e ho la stessa sensazione ora che l'ho indossato di nuovo dopo tanto tempo. Anche questo come il correttore ha una texture molto sottile, quindi rimane molto sottile, non fa strato, si uniforma perfettamente con la pelle, si sfuma facilmente ed ha una coprenza media. Non è altissima, io non so se voi riuscite a percepirlo, ma ancora si intravedono le mie macchiette, però ha quel tipo di coprenza giusta che mi piace, perché mi uniforma senza rendere l'effetto troppo fake, diciamo, ecco. Quindi un peccato davvero che io non abbia minimamente azzeccato la colorazione, ma ribadisco, spero di poterlo utilizzare in pieno inverno. Ora ovviamente per andare a sistemare un po' la situazione dovrò applicare un po' di terra, e scelgo di applicare la terra della collezione Belen, anzi della palettina viso della collezione Belen di Diego Dalla Palma, che utilizzerò sia per fare un po' di contouring che per scaldare un po' tutta la situazione, che ora non è bellissima vista così, però prima voglio applicare un velo di cipria, e come cipria andrò ad utilizzare questa di Katkin Cosmetics. Vi avevo parlato di questo brand in uno dei video precedenti, che se vi siete persi vi lascio linkato qua nelle schede, così come vi lascio linkato anche il video precedente dove vi parlo della collezione di Belen, così se vi siete perse qualcosa potete recuperare. Quindi vi dicevo, applicherò questa cipria e tra poco vi mostro anche il mio sistema per applicare la cipria in polvere libera sul contorno occhi e per fare in modo che il correttore non vada nelle pieghette, quindi non perdetevi il prossimo passaggio. Però prima voglio mettere un altro mini mini strato di correttore sulla mia occhiaia per vedere se riesco a coprire meglio questa zona che è rimasta un pochino scuretta o meglio grigiastra. Ne metto proprio pochino pochino perché appunto non essendo della colorazione giusta ho paura che vada a peggiorare la situazione e poi riprendo il mio pennello di prima e lo sfumo. Mi concentro in questa zona, non tiro il prodotto ma picchietto in questo modo e poi sfumo leggermente verso il basso così e vedete che si sfuma e si applica praticamente in tre secondi e questa è sicuramente una nota molto molto favorevole. Non ne applico tantissimo in questa parte dove è la zona dove ho diciamo le pieghette più evidenti, quindi non tanto quando tengo il viso rilassato quanto piuttosto quando rido o faccio appunto determinati movimenti col viso, questa è la zona che si increspa di più come dico io, quindi in questa zona cerco di applicare sempre poco prodotto ed è la cosa che consiglio anche a voi se come me avete il contorno occhi un pochino più segnato. Dopo aver applicato il correttore e con una seconda passata ha corretto un pochino meglio l'occhiaia, vi faccio vedere come applico appunto la cipria in polvere libera. Ne metto una piccola quantità nel tappino della cipria, uso la spugnetta già inumidita, quindi spugnetta umida, vado a fare una specie di baking facendo questo sul contorno occhi e pressando per bene in questo modo. Faccio lo stesso ovviamente dall'altra parte e tra l'altro questa cipria di Katkin è davvero super sottile, quindi è anche adatta per essere utilizzata sul contorno occhi. Poi attendo qualche secondo, quindi appunto come una specie di soft baking, vado con un pennello pulito a spolverare la zona per togliere eventuali eccessi di prodotto. Con lo stesso pennello prelevo un po' di cipria ancora e la passo velocemente sul resto del viso, ma proprio ne metto poca perché vi ricordo io ho la pelle tendenzialmente secca e sicuramente la cipria non è mia amica in questo senso. E poi faccio un ulteriore passaggio sul contorno occhi, cioè riprendo la mia spugnetta e prendo un fissatore per makeup. In questo caso io qui ho il Fix Plus, tra l'altro in questa versione molto carina da viaggio, ma potete utilizzare qualsiasi makeup fixer che avete, tra l'altro io ne utilizzo sempre di diversi perché ne ho molti. Riprendo la spugnetta, vado a bagnarla con il fissante e ripasso sul contorno occhi, in questo modo sempre picchiettando. Perché faccio questo passaggio? Perché ragazze questo passaggio mi permette uno ovviamente di fissare meglio il correttore e la cipria e due di togliere l'effetto cakey, eventualmente se ci fosse. Quindi tolgo tutto l'effetto polveroso dal contorno occhi, vado a reidratarlo un pochino e allo stesso tempo fisso i prodotti che ho messo al di sotto, sempre picchiettando bene e premendo bene in modo che il prodotto si fonda bene con la pelle. E faccio la stessa cosa anche in quelle zone del viso che ho un pochino più segnate, nel mio caso in particolare questa zona dove vedete ho le classiche rughette nasolabiali. Vado a fare la stessa cosa perché questo mi permette di fissare un pochino meglio il fondotinta e quindi fare in modo che non si sposti e non vada ad evidenziarmi queste zone. Fatto questo direi che è il momento di andare a scaldare un po' l'incarnato. Inizio a concentrarmi in questa zona per simulare una specie di contouring, anche se non farò un vero e proprio contouring perché questa terra è un pochino calda per questo scopo, quindi mi tengo leggera e soprattutto meno precisa di come farei con terra per il contouring vera e propria. Mi concentro in questa zona e poi vado anche sulla fronte, quindi vado qua, faccio il classico 3, prelevando sempre poco prodotto perché questa terra è vero che è abbastanza chiara ma allo stesso tempo è anche scrivente, quindi non voglio creare disastri. Devo dire che è molto bello l'effetto di questa terra, è davvero super naturale, è completamente matte e come vedete si gestisce in maniera semplicissima. Vedete come ha scaldato molto bene l'incarnato senza risultare per niente artefatta, quindi davvero molto molto belle le polveri viso di Diego Dalla Palma così come anche gli ombretti che io trovo ottimi. Ok direi che a questo punto ci siamo, il tutto risulta sicuramente più armonico e a questo punto non ci resta che provare i due blush, quindi il blush liquido e quello in crema. Per quanto riguarda le colorazioni del blush liquido ho scelto la tonalità Grace che ovviamente vi swatcho subito ed è questo rosa molto carino, eccolo qua, eccolo qua, un colore molto fresco. Tra l'altro swatchandolo mi sono resa conto che sul viso ne dovrò applicare davvero una quantità infinitesimale perché ragazze scrive in una maniera esagerata, cioè guardate quanto ha scritto e comunque ne avevo messo davvero poco quindi questo è il blush liquido e ora vediamo la colorazione del blush in crema che invece si chiama Nearly Mauve e come suggerisce il nome stesso è una tonalità che è un pochino più spenta e richiama il colore malva. Ecco qua, questo è lo swatch del blush in crema e devo dire che swatchandoli mi sono resa conto che sono due tonalità molto diverse e anche la texture e la resa e la tipologia di prodotto è davvero molto molto diversa quindi sto un pochino ricredendomi, non credo che farò una parte del viso con un prodotto e l'altra con l'altro perché davvero la differenza è troppa e come vi dicevo poco fa devo uscire quindi non posso permettermi di avere due blush completamente diversi sul viso sono due prodotti che comunque si asciugano molto in fretta ma il blush in crema è più sheer come vedete quindi meno coprente e diciamo quindi più gestibile mentre il blush liquido mi ricorda un po' il prodotto di Benefit ora non mi ricordo precisamente il nome ma era quel blush liquido che poteva essere utilizzato sia per le labbra che per appunto il viso e mi ricorda molto quel prodotto, è davvero molto liquido e si fissa quasi come se fosse una tinta diventa quasi un cream to powder in realtà sotto le mani quando lo stendete però sembra quasi una tinta, devo dire mi spaventa un pochino quindi credo che per oggi applicherò lui e lo applicherò utilizzando il mio fidato pennello duo fibre di Real Techniques e vado semplicemente a intingere il pennello in questo modo nel blush e poi lo stendo sul viso picchiettando voi avete visto che prima di stendere questo prodotto in crema io ho messo un velo di cipria sul viso e in realtà è una cosa a cui non faccio mai troppo caso nel senso che anche quando utilizzo i prodotti in crema non mi faccio particolare problema ad utilizzare un velo di cipria sul viso anche perché uno ne metto talmente tanto poca che non credo possa fare la differenza e due perché trovo che se i prodotti sono ben formulati anche un velo di cipria non vada a inficiare appunto la resa del prodotto né tantomeno vada a fare l'effetto pastone in più ho la sensazione che lasciando un velo di cipria sul viso ma ripeto parliamo di quantità davvero piccine quindi non proprio uno strato ma mettendone giusto una piccola quantità per asciugare il fondotinta poi il prodotto che metto sopra non si vada a mangiare appunto il fondotinta stesso che è un po' il problema che hanno quasi tutti questi prodotti e cioè quello di mangiarsi ciò che abbiamo messo sotto quindi in questo modo io mi trovo bene so che probabilmente non è la tecnica che ogni mua vi consiglierebbe però per esperienza personale devo dire che mi sono sempre trovata bene non ho mai avuto particolari problemi intanto sto procedendo con la stesura del blush e come vedete l'effetto è molto naturale sto procedendo applicandone una piccola quantità e sfumando bene ma devo dire che il prodotto si sfuma molto molto bene molto facilmente e soprattutto non fa per niente macchia non mi sembra si sia mangiato particolarmente il fondotinta che era sotto quindi devo dire che mi sembra l'effetto sia bello e soprattutto mi piace perché è molto semplice da gestire ora come al solito io ne ho messa una quantità un pochino maggiore di quanto farei nella mia vita quotidiana semplicemente perché so che dal video poi il colore un po' sparisce quindi i video si mangiano sempre un po' del colore e quindi volevo mostrarvelo al meglio l'effetto è questo è un effetto molto naturale molto gestibile e devo dire che mi trovo perfettamente d'accordo sul fatto che questo è sicuramente uno dei prodotti di punta del brand tra l'altro ragazze non mi ci sono soffermata poco fa ma guardate che spettacolo il packaging tutto rosa questo mini ovetto rosa bellissimo la colorazione ve lo ripeto è nearly mauve e il colore appunto questo una volta applicato e devo dirvi che mi piace davvero tanto ora voglio fare un esperimento con voi e siccome l'altro blush mi ricorda appunto tantissimo il prodotto di benefit labbra guance voglio provare ad applicarlo un pochino sulle labbra vediamo se è utilizzabile con questo scopo non seguitemi perché è assolutamente un esperimento quindi potrebbe venirne fuori un disastro vediamo provo ne ho presa una piccola quantità sulla punta delle dita che tra l'altro ormai sono tutte tinte di rosa ecco qua l'effetto del prodotto steso sulle labbra e vi dirò che non mi dispiace per nulla si è steso facilmente come credo abbiate visto una volta steso ed asciugato praticamente ha la consistenza di una tinta labbra e potrei aver trovato un uso alternativo di questo prodotto ragazze fatemi sapere come vi sembra a me sembra che funzioni bene ok quindi questo è il risultato finito del look viso ricreato con i prodotti di Rare Beauty e vi posso dare le mie considerazioni soprattutto su correttore e fondotinta anche se le avrete già capite nel corso del video devo dire che sia il correttore che il fondotinta mi piacciono molto mi piacciono molto perché risultano allo stesso tempo coprenti ma idratanti non segnano la pelle non seccano e faccio questo discorso per entrambi perché in realtà la loro formula è molto molto simile il fondotinta è piuttosto liquido ma anche il correttore in realtà lo è e quindi questa tipologia di formulazione permette al prodotto di stendersi in un velo super sottile sul viso sia per il correttore che per il fondotinta non fa strato si uniforma nel corso della giornata non si sposta inoltre è molto molto buona anche la durata dal vivo l'effetto di questa base è davvero molto molto bello io spero possiate percepirlo anche voi è praticamente l'effetto di una pelle sostanzialmente molto levigata quasi perfetta i pori non si vedono per nulla e anche le eventuali rughette d'espressione o quant'altro sono state comunque minimizzate quindi è un effetto quasi soft focus che mi piace molto ma allo stesso tempo il prodotto rimane comunque idratante e il finish è molto naturale quindi sia fondotinta che correttore mi piacciono tantissimo mi piace tantissimo mi ha convinta tantissimo al primo utilizzo anche lui anche se non posso dirvi nulla per quanto riguarda la durata perché ovviamente l'ho provato con voi oggi per la prima volta mentre per utilizzarlo sulle guance lui mi spaventa un pochino ma ovviamente per lui ci riaggiorneremo su instagram quindi non dimenticatevi di venirmi a seguire anche su instagram e tra l'altro c'è una mega novità ragazze ho finalmente cambiato il nome del profilo che non mi piaceva più su instagram quel laeliz-yt non mi rappresentava più non mi piaceva più e quindi ho finalmente scelto un nuovo nome profilo che comunque rimane fedele al mio mood e ora su instagram mi trovate come laeliz in beauty ve lo lascio scritto qui in sovraimpressione venite tutti a seguirmi anche lì perché ovviamente vi aggiorno sull'utilizzo dei prodotti abbiamo un rapporto sicuramente più quotidiano di come riesco a fare qua con youtube quindi se potete e avete instagram venite a trovarmi anche lì vi aspetto mi raccomando e quindi per lui vi dicevo ci aggiorneremo sicuramente su instagram onestamente mi sembra buono anche utilizzato come prodotto labbra non so se nel corso della giornata magari possa seccare o segnare però lo sto indossando ormai da circa una mezz'oretta qui nel video con voi e devo dire che sembra non aver fatto movimenti strani c'è da dire in ogni caso nella colorazione mi piace tantissimo e appunto la colorazione che ho scelto la trovo molto adatta anche per essere utilizzata come rossetto ok con questo direi che anche per oggi è tutto io spero che questa mini carrellata sui prodotti di rare beauty vi sia stata in qualche modo utile fatemi sapere se avete già provato questi prodotti se vi incuriosiscono oppure se non vi piacciono fatemi sapere che cosa ne pensate di come hanno performato sul mio viso di cosa ne pensate dopo averli visti all'opera quindi aspetto come sempre i vostri commenti mi raccomando non lasciatemi sola io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video vi invito ad iscrivervi al canale ricordatevi anche di instagram mi raccomando qui nel canale attivate anche la campanellina per non perdere tutte le prossime uscite io come al solito vi mando un mega bacione e sempre se vi va ci vediamo presto al prossimo video ciao ciao